Parte oggi la sesta edizione del Festival Michael, che è diviso in sezioni, oggi siamo partiti con Michael e la legalità con l'Assemblea Nazionale di Avviso Pubblico, Michael è la storia, avremo i nostri fratelli Longobardi con il CDA, quindi i sette siti della rete dei Longobardi in Italia, con l'IGERS che invaderanno i nostri territori e il nostro patrimonio culturale, ma Michael è anche turismo con BTM, BTM è una vetrina in cui saremo proiettati, una tavola rotonda in cui 20 buyers nazionali e internazionali incontreranno i nostri operatori, gli operatori del Gargano intero, perché proiettati verso il 2024, l'anno del riconoscimento in cui Monte Sant'Angelo sarà capitale della cultura per la Fuglia, e verso il 2025, che è l'anno del giubileo.